Qualcuno è venuto nella mia isola e ha rubato i miei diamanti. Salve a tutti. Il video di oggi si preannuncia interessante. Questa griffata co-op è stata fatta a Pasqua con mezzo form dei griffers, ma non ho avuto mai tempo di montarla. Oggi ho deciso di fare il video in occasione dell'Ava Bucket Challenge, da me inaugurato. Qualcuno può aiutarmi a riavere indietro i miei diamanti? Oddio sto morendo e non abbiamo manco iniziato. Bel lavoro ragazzi. Con questo equipaggiamento nessuno potrà fermarci. I canali di tutti i partecipanti alla griffata li trovate in descrizione. Caro costruttore piagnucolone stai pure tranquillo. Forse non riavrai i tuoi diamanti, ma noi ne faremo buon uso. Guarda come funziona bene questo piccone uber fatto con le tue gemme. Peccato solo che il fuoco non si espanda. Stanno griffando lo shop. Qualcuno chiami un admin? Certo che sono ancora qui. A differenza vostra però non mi sono fatto ancora beccare ed ammazzare dai player e il server mi sta adeguatamente ricompensando per aver griffato il pascolo di questo poveraccio. Mi so che il nostro amico può gridare quanto vuole, ma qui i padroni di casa siamo noi. Ora però passiamo ai veri obiettivi. Stufo di griffare alla buona col picconazzo ho trovato un po' di ferro e ci ho creato un secchio d'acqua. Vediamo di sfruttare al meglio le shaders visto che col nuovo piccino lagano più. Giù di acqua ora. Vediamo quindi di aggiungere qualche blocco per dare un po' di libertà a questo fiume in piena. Ma cos'è un lava bucket challenge senza la lava? Serve roba più calda del ghiaccio per dare il tono giusto a questa griffata e fare qualcosa di meglio della pagliacciata che gira in rete in questi giorni. Quindi, con tutta la lava che c'era in giro da bravo idiota ho accettato in pieno la sfida di prendere quella nel cucuzzolo della montagna. Se sfida deve essere, che lo sia fino in fondo. Questo è il risultato del secchio di prima. Sono proprio curioso di vedere che effetto fa una casa sladizzata la cui luce si rifletterà su questa piena d'acqua. Usiamola questa lava quindi. Con questa secchiata nomino tutti i griffer che stanno guardando questo video a ripetere questo gesto. Ripetete questo gesto in beneficenza non solo della nostra community disastrata, ma anche del vostro divertimento. Finitela di litigare fra di voi e, come facevate un tempo, accettate questa sfida quando giocate invece di rincorrere le visualizzazioni, scannarvi fra voi o risvegliare vecchi rancori. E se avete anche l'acqua usate anche quella. L'effetto che otterrete sarà ancora più divertente per voi e per il vostro pubblico. Oltre che più fastidioso per gli anime. Alla fine, in preda all'esultanza, la lava me la sono tirata in testa in modo simile a come fanno gli esibizionisti del ghiaccio sul web. E ho perso tutto quello che avevo. Comunque una volta rinato, i gentili occupanti di questo server mi hanno chiesto TPA e invitato a casa loro a prendermi UPE. Come vedete sono felici e contenti, ignari di tutto quello che gli ho combinato. Ed è con questi dialoghi che interrompo questo video, forse troppo breve, ma che non posso fare più lungo, sia per motivi tecnici dovuti alla mia connessione internet, sia forse per un calo di ispirazione. Spero comunque che questo messaggio di beneficenza passi e arrivederci alla prossima. Grazie a tutti.